Salve, innanzitutto grazie a tutti per essere venuti e grazie chiaramente a Verde e Binario per avermi invitato e all'Università per aver ospitato questa mia oretta di sproloqui sui videogame. Sulla locandina c'è scritto che la storia che cercherò comunque di ripercorrere parte dagli anni Ottanta e quindi di come si è sviluppata la grafica 3D relativamente ai videogiochi e per lo più ai giochi in generale partendo dagli anni Ottanta ma vi abbiamo mentito perché in realtà siccome a me piace un po' tornare sempre a una versione più primitiva delle cose per capirne il funzionamento facendo sempre questo processo di ricerca primitiva della genesi delle cose alla fine sono tornato a fine Ottocento quindi come si arriva da fine Ottocento inizio Novecento ai giochi in 3D. in realtà poi vedremo che difficile non è perché in realtà mi presento velocemente vabbè sono Michele Falcone di Ikin in Art e per lavoro, per professione o per hobby faccio videogame indipendenti o comunque design sempre relativo all'informatico, al mondo dei computer e del digitale. Tornando al discorso di prima, quindi sono dovuto tornare perché poi a furia di tornare sempre indietro va a finire che tornavo davvero alla preistoria quindi mi sono dovuto dare un limite. In questo mondo che attraverseremo diamo per scontato che i giochi intesi come giochi da tavolo giochi di società in generale esistono già di per sé quindi almeno partiamo da questo punto perché sennò tornavo troppo indietro. Qua in questo caso ho preso gli scacchi e il biliardo, questa in particolare è un'immagine particolarmente moderna ma mi piace per vari motivi e anche quella è un'immagine che ho preso il biliardo, potevo trovare milioni di immagini o anche illustrazioni di epoche più antiche però siccome in molti di questi discorsi e molto spesso nei miei ragionamenti torno a ricollegare qualcosa a un periodo di guerra, questa è un'immagine della seconda guerra mondiale in cui per dilettarsi marine appunto giocavano al biliardo. Quindi in questo mondo che conosciamo in questo percorso i giochi già esistono, i giochi di società diciamo. Del perché si gioca è inutile dirlo ma lo ricordo velocemente, il gioco è un'abitudine, una cosa che fanno gli esseri viventi in generale per socializzare, già nei gattini piccoli si vede che appena nati iniziano a lottare ed è un modo appunto per socializzare e per creare un legame più profondo con le persone che giocano con noi. Appunto in questo percorso che stiamo affrontando c'è già l'usanza di ritrovarsi in dei bar per giocare a biliardo. Magari in questo caso dei Marines si usava per creare legame magari appunto fra le truppe per giocare a biliardo tutti insieme quindi il gioco in questo caso esiste per lo più come modus operandi sociale insomma. Tornando indietro quindi l'immagine del 45 però se consideriamo il biliardo sicuramente inizio 900, fine 1800 esisteva sicuramente. Uno dei modi per giocare a questi giochi era nelle sale giochi, in questi casi erano ancora bar oppure sale biliardo banalmente. Oppure un altro modo per giocare era alle fiere, alle fiere tipo se siete di cosenza tipo la fiera di San Giuseppe, una fiera di paese in quel modo. In queste fiere i costruttori di determinati oggetti a scopo ludico inventavano questi oggetti proprio loro e li portavano proprio in persona. A volte erano inventori in zè oppure erano piccole aziende, piccoli produttori che portavano questi loro prodotti destinati all'uso massivo inteso come di massa a queste fiere. Fra questi vari prodotti che c'erano in queste fiere sicuramente molto degni di memoria per capire di che tempi stiamo parlando. In inizio 800 c'erano alle fiere giochi come si vede molto spesso nei cartoni animati, quello del martello che devi colpire la pallina per dimostrare quanto sei forte e cose del genere. Tuttora nelle sale giochi si trovano questi giochi tipo quello del pugno, il pugno al Pungible che dà il punteggio. Fra questi ho selezionato questi due che sono il mutoscopio che è praticamente un mini cinema con un punto di vista, quello che è lì in alto a quello che può sembrare ad oggi come un visore VR, insomma qualcosa che ha una visione stereoscopica, si mette sul viso e si può guardare dentro e il funzionamento era molto semplice perché ancora era un periodo in cui l'elettricità di per sé era molto, non era nemmeno propriamente diffusa, questo modello in particolare la lampadina ma erano i primi anni in cui si sviluppavano appunto delle reti elettriche o modi per sviluppare elettricità sul luogo e sostanzialmente il funzionamento di un flipbook, cioè quei libretti di animazione che vediamo in libreria che fanno i cartoni animati però è meccanico ed è a gettoni, quindi da qua inizia il fatto di avere queste macchinette a gettoni però soltanto nelle fiare. Il bagatello è un prototipo del flipper sostanzialmente, è l'anello mancante fra il biliardo e il flipper, è un biliardo per una sola persona, a fine 800 era con la stecca, poi si è sviluppata la conoscenza meccanica anche legata perché ci sono sempre più soldi magari per sviluppare queste cose ed è diventato prima con la leva fino al 32 ancora senza le levette, infatti il flipper si chiama, in inglese in realtà si chiama pinball, il flipper si chiama flipper perché le levette venivano chiamate flipper, quando sono state aggiunte poi vabbè, si è chiamato flipper. Che cosa? Questi come vi ho detto erano produttori di questi oggetti, molto spesso erano brevetti, singoli, il mutoscopio è un brevetto di proprietà dell'American mutoscopio associato, una cosa del genere, erano brevetti persone di queste aziende, cosa faccio queste aziende che poi in realtà nelle fiere americane si ritrovavano tutti? Decisero ma perché dobbiamo usare questi nostri strumenti soltanto alle fiere? Facciamo in maniera tale che possiamo guadagnare tutto l'anno. Allora questo pool di costruttori, di inventori decise di sviluppare degli arcade. Arcade mi sono andato a trovare l'etimologia proprio pochi giorni fa per fare questo talk, mi sono andato a trovare l'etimologia di arcade, arcade viene se non sbaglio dal greco, vuol dire galleria di base. Quindi un game arcade è una galleria di giochi, una galleria in cui ci sono tutti i giochi prodotti da questi oggetti. Penny perché sostanzialmente una partita a questi oggetti costava un penny, quindi erano gallerie dove c'erano questi giochi in cui potevi giocare con un penny. Quindi perché vi dico questa cosa così antica? Che c'entra sta roba di legno con i videogiochi? Nascono le sale giochi così come le conosciamo, cioè un luogo dove andare per giocare solo a queste cose, non al biliardo, alle freccette che comunque erano già presenti nei pub, solo per giocare a questi giochi. Lì in alto ho messo questo signore che si chiama Paul Nipko, è un polacco, Paul Nipko. L'ho messo qui perché proprio a inizio novecento iniziava a sperimentare con quella che poi sarebbe diventata la televisione. Quindi chiaramente negli anni trenta la televisore non esisteva, c'erano queste idee sperimentali che poi dopo mostrerò. Un'altra cosa che volevo dire perché l'idea di arcade fece subito successo perché comunque tornando al discorso della guerra erano anni di guerra, primo novecento, anni trenta, prima e dopo la prima guerra mondiale, quindi si cercava una forma di intrattenimento che costasse poco. All'epoca già per esempio esistevano primi modelli di cinema e qualche cinema c'era, ma il cinema era ben più costoso di una partita a un gioco così che costava solo un penny. Quindi è in questo che il mutoscopio è diventato conosciuto e poi di conseguenza molto spesso, essendo una visione privata in locali, magari riservate agli adulti, molto spesso lì c'erano anche immaginette pornografiche. Cioè se uno si dovesse chiedere perché andare a buttare un gettone lì dentro per vedere questa macchina, perché molto spesso erano contenuti erotici. Molto spesso anche bannati e si cominciò ad additare le sale giochi come luogo di perdizione, già negli anni venti. Quindi, dicevo, queste sale giochi funzionavano, funzionavano tantissimo, quindi i costruttori si ampliarono sempre di più e decisero di fare giochi sempre più variegati e sempre più interessanti di conseguenza. Un esempio che può venire in mente è per esempio il calcio balilla e il biliardino. Uno potrebbe pensare che il primo esperimento è quello proprio con le levette, in realtà il primo biliardino al mondo è questo, che si trova in sala giochi nel 1925, full team football. Cioè si inseriva il gettone e ogni giocatore tramite queste levette aveva la levetta che tirava il calcio. Quindi si cerca di simulare la realtà, perché il calcio negli anni venti già esisteva, il gioco, perché non scordiamoci che stiamo parlando di videogiochi, ma il gioco già esisteva. Quindi si tenta di riprodurre in sala giochi ciò che esiste nella realtà. Questo è molto vecchio degli anni venti, questa foto è molto più reagente, il 68, in realtà poi dopo vedremo che il 68 tecnologicamente per quanto riguarda televisore e computer è già un anno diciamo più avanzato, però i giochi elettronici ci hanno messo un po' prima di battere questi, la gente in realtà si divertiva di più a questi. Andando dopo, quando uscì poi Pong, ci urlerò anni prima che la gente giocasse a Pong e Space Invaders piuttosto che giocare a Flipper, erano ancora preferiti i Flipper. Comunque, questo, perché ho messo questa foto? Perché è uno dei primi esempi in cui Sega, insomma, che è uno dei più grandi produttori di videogiochi ad oggi e in questo escursus vedremo che è stato un componente, un giocatore fondamentale in questa storia, ma anche nello sviluppo del 3D stesso, nel 3D riservato al gioco, perché parleremo di 3D, sì, ma riferito al gioco. E in questo caso, sempre legata alla trasposizione di realtà, questa era un modo per simulare un elicottero in maniera meccanica, vagamente elettronica, solo qualche lucina, praticamente come funzionava? Che si accendeva una lucina e tu meccanicamente dovevi fare arrivare l'elicottero in quel luogo. Ed è un gioco del 68 prodotto da Sega. Quindi si inizia a pensare a questi giochi non solo come giochi ex novo, quindi giochi pensati entro i limiti della tecnologia dell'epoca, ma si cerca già di prendere i giochi, si stendono nella realtà e portarli in cabinati. Qua si inizia già a parlare di cabinati arcade, poi il termine viene comunque mantenuto quando poi si parla di cabinati proprio col videogioco dentro. Sega inizia a investire molto in questi progetti di sala giochi, di arcade, e uno dei più famosi è il Sega Periscope del 68 che, oltre a popolarizzare l'uso del quarto di dollare, perché poi per un motivo o l'altro, inflazione o altro, dal penny si passò a 25 centesi. Ma oltre a popolarizzare questa cosa, popolarizzò il fatto di usare un punto di vista mutuato dal motoscopio. Cioè il fatto di poter guardare e avere quindi un'illusione che quello che stessimo guardando fosse reale perché c'era preclusa la visione periferica attraverso un visore. Ho usato questa foto che è un po' sgranata, però serve proprio a farvi capire quanto era grande questo Sega Periscope rispetto a un flipper di inizio anni 90. Cioè erano cose gigantesche. Cioè per creare questa cosa che non era nemmeno un videogame, nel 68 non si poteva tenere in casa una roba del genere. Poteva essere solo in sala giochi. Tutto questo discorso per dire che per un bel pezzo, prima dei computer un po' più avanzati e le console più avanzate, la sala giochi per almeno 50 anni è sempre stato il terreno dove sperimentare o presentare le ultime tecnologie. Questo è un altro esempio di giochi creati da Sega, dove era sostanzialmente il tiro a piattello mutuato ancora dalle fiere di cui parlavamo prima. Però durante queste ricerche ho trovato anche una versione ancora più antica di questa modalità di gioco, di gioco elettromeccanica, che è questo Atomic Bomber del 46. Come dicevo prima, molto spesso ci si lega alla guerra per un motivo o per un altro. Infatti nel 46 uscì questo gioco dove dovevi bombardare con una bomba atomica altri degli obiettivi di guerra. E fu uno dei primi, non era nemmeno un videogioco perché è elettromeccanico, sono luci e leve, però fu uno dei primi casi in cui un mezzo di intrattenimento crea, non dico scandalo, però iniziano ad essere i videogiochi. Cioè non è che da Doom in poi o da Postal in poi la gente è iniziata a dire i videogiochi che portano violenza. Già dal 46 si poteva parlare di questa cosa. E quindi comunque si instaura sempre di più questa tecnologia del fatto che vedere in prima persona quello che sta accadendo era già possibile allora, però in questi anni diventa sempre più necessario. se è arrivato al televisore. Prima avevo fatto vedere quella persona che usciva lì dall'angolo che era Paul Nipkov, che cosa ha creato? Ha creato il televisore meccanico. Cioè sono tornato un attimo indietro adesso in sala giochi negli anni, è 68 però diciamo anni 60, in sala giochi c'era questa roba, quindi giochi di materiale, c'era molto poco di visuale, di monitor. E invece negli anni venti, a inizio novecento, questa persona Paul Nipkov sperimentava il primo televisore. Che cos'era all'epoca sostanzialmente il primo televisore? Era un videotelegrafo, cioè aveva lo stesso funzionamento del telegrafo o di qualsiasi altra cosa informatica o qualsiasi scambio di dati. Cioè sappiamo bene che i dati alla fine, qualsiasi dato in informatica, è una serie di 1 e 0, qualsiasi dato. Con una lampadina è facilmente riproducibile questa informazione perché sono la lampadina accesa e la lampadina spenta. Anche il telegrafo funziona così, sono una serie di informazioni, anche il fax funziona così, sono una serie di 1 e 0 di acceso e spento che vengono codificati da una macchina e appare il dato. Come funzionava il primissimo televisore che si chiama televisore meccanico di base? C'era l'antenna radio, il ricevitore radio che riceveva questi dati, come il telegrafo per chi ha giocato anche al Commodore 64 o console del genere, addirittura in radio davano i videogame e tu potevi scaricarti il videogame tramite la radio. Se tu sentivi la trasmissione era no, insensibile, erano una serie di dati dati tramite input. E come funzionava? La lampadina collegata, lì television lamp, la lampadina collegata ai dati radio riceveva questi dati radio e quindi la lampadina si accendeva e spegneva. Questo disco, chiamato appunto disco di Nipco, aveva dei fori messi a una certa distanza che aggiornavano questa luce creando il frame rate, cioè la frequenza di aggiornamento dello schermo. Io ho anche un video di questa cosa, se vogliamo vederlo. Questo perché ho portato questo video? Perché il televisore potrebbe sembrare una cosa che è apparsa da nulla. come si arriva a creare un televisore? Così. C'è questo disco che aggiorna a righe, un disco meccanico che aggiorna a righe questi impulsi elettrici e poi crea un'immagine, immagine televisiva. È chiaro, è abbastanza chiaro? Questo succedeva negli anni venti, quindi si è creato, a inizio novecento questa cosa succedeva, si è creato già un precedente su come fare funzionare, poi il tubo catodico che è stato sostanzialmente presentato come tesi di laurea praticamente da questo giapponese che era Kenjiro Takayanaji nel 26, non riproduceva un'immagine come un televisore a cui siamo abituati, ma aveva già impostato come fare viaggiare un elettrone sotto vuoto, cioè il televisore funziona che praticamente c'è una pistola d'elettroniche qui, che lancia degli elettroni che non siamo a fisica, spero di non sbagliare, ma sono invisibili gli elettroni e viaggiano nel vuoto, quindi è una bottiglia sotto vuoto il tubo catodico e tramite questa, qui dove c'è la linea rossa, ci sono dei deflettori, l'elettrone parte diritto e questi deflettori, ce n'è uno verticale che sceglie questo fascio di elettroni dove deve andare in verticale e un altro che sceglie in orizzontale dove questo elettrone deve andare. L'elettrone come abbiamo detto è invisibile, diventa visibile solo quando si lega a un fotone, questa cosa è possibile perché andava a sbattere contro lo schermo quello che noi vediamo però dal lato interno che è trattato col fosforo, il fatto che l'elettrone tocchi il fosforo si illumina e non lo possiamo vedere visibile. Questo è come funziona e poi da qui in poi, questa persona l'ha inventato, magari riproduceva solo un puntino bianco sullo schermo ma da qui a un tubo catodico come questo il passo è breve. In questa foto l'ho portata perché ho scritto alla fine degli anni cinquanta una famiglia americana su due aveva almeno un televisore in casa, nel senso che sì, alla fine degli anni cinquanta il televisore, da questa scoperta universitaria e Nipkow prima, qualche ricco aveva anche qualche televisore meccanico e c'erano stazioni, c'erano stazioni di broadcasting televisivo quando c'era la televisione meccanica, ma era una cosa riservata a pochi eletti, se non sbaglio c'erano un migliaio di televisioni meccanici negli anni dieci. Comunque la gente inizia ad avere il televisore a casa per gli anni cinquanta. Questo è il Filco Predicta, Filco era un'azienda di Filadelfia che produceva televisori, il Filco Predicta è il primo esperimento di televisore a schermo piatto, però in realtà si è rivelata fra virgolette una sola perché comunque si cappottava e molta gente l'ha distrutto il televisore perché non stava in piedi. Vabbè questo è che fa vedere Google ma è una cosa un po' anacronista. quindi per la fine degli anni cinquanta un americano su due aveva un televisore in casa però nel sessanto, cioè a fine anni sessanta in sala giochi c'era questo, però a fine anni cinquanta non ognuno ma tanta gente aveva il televisore a casa. Quindi se a fine anni cinquanta tanta gente aveva il televisore a casa, nelle università gli oscilloscopi che sono una versione primitiva, è questo praticamente, una versione primitiva del televisore, nell'università già c'era l'oscilloscopio. Ancora non si parlava di immagini raster come sono poi quelle per il televisore, si trattava di tracciare quest'unico fascio di elettroni in maniera continua tra l'altro, all'inizio non avevano blanking gli oscilloscopi, non avevano un aggiornamento di frequenza, era un fascio di elettroni continuo. E nelle università erano presenti questi televisori, questi oscilloscopi. In generale viene ricordato come uno dei primi esperimenti di vero videogioco questo qui, Tennis for Two, che è effettivamente un videogioco giocabile, una sorta di pong però, non visto dall'alto ma visto di lato, ed è stato pensato sì con applicazioni prettamente ludiche ma era ancora, era una forma diciamo ancora di esibizionismo accademico, non era roba pensata per il commercio. Questo è del 58, non si era pensato ancora di portarli in sala giochi perché la gente giocava a questi giochi in sala giochi, erano ancora relegati all'università. Questo del 47, quindi Seconda Guerra Mondiale ancora, era sostanzialmente, non era propriamente un videogioco perché ho portato quello come esempio, perché sì, era la modalità demo, la modalità intrattenimento di un radar militare, ma non aveva molto a che fare ancora con un videogioco. Un'altra cosa che mi sono scordato, si inizia a fare questa roba nelle università, per lo più nelle università, e intanto il televisore appunto funzionava e il televisore in maniera laterale continua ad evolversi, quando, questa è l'unica volta che parlo, forse è una delle poche volte parlo di PC in questo seminario, uno dei primi PC che arrivò nelle università, quindi come sistema programmabile di oscilloscopio, fu questo Space War nel 62, ma non ne voglio parlare troppo perché se ne parla molto spesso, lo porto ad esempio soltanto, è un gioco dello spazio fatto tramite vettori disegnati dall'oscilloscopio, ma era sempre una demo universitaria, una demo accademica, non era pensato per l'uso pubblico. Per l'uso pubblico, ma sempre relegato ai bistrò più universitari, ne avranno prodotti 200 di questi, era il Galaxy Game, cioè prodotto a Stanford usando sempre questo computer, cioè questa era la tecnologia più avanzata all'epoca, la capacità di disegnare dei vettori su un oscilloscopio. Nel 71 c'era questo, poi a un certo punto c'è stato Computer Space, che è un altro gioco che non ho portato, ma è sempre legato comunque alla grafica vettoriale dell'oscilloscopio, è il primo esempio invece di gioco Raster e Pong, Raster e Vettoriale, poi ne parliamo fra pochissimo, c'è una piccola differenza, c'è una grande differenza, poi man mano si va a limare questa differenza, però uno dei primissimi giochi che vediamo in sala giochi prodotto in massa è Pong, nel 72, e la console uscirà solo nel 75, già però iniziano a rimpicciolirsi i tempi in cui una cosa è universitaria e accademica di grande consumo, quindi cominciano ad accorciarsi i tempi in cui le cose diventano da prototipali, sperimentali a cose che sono in casa. Un altro video che volevo farvi vedere, altri due in realtà, è che dato che qui stiamo parlando di Pong nel 72, nel 72 c'era il cabinato di Pong in sala giochi, ma ce ne volle un po' prima che la gente giocasse ai cabinati col videogioco, perché era ancora più interessante il cabinato elettromeccanico, mentre il Pong era, avete presente due stacchette che giocano a tennis, a ping pong in realtà, video ping pong era il nome intero, quindi era un simulatore di ping pong, quindi ritorniamo al discorso di prima che si porta sempre una trasposizione della realtà nel videogioco, un simulatore di qualcosa. C'erano cose elettromeccaniche che simulavano la realtà meglio di cose elettroniche, tipo nel 76 uno dei primissimi simulatori di guida, uno dei primissimi simulatori di guida, se lo guardiamo questo sembra un videogame, ora ne vediamo anche il funzionamento, sembra proprio un videogame da sala giochi, con un televisore e un gioco che parte, ed era un simulatore di guida prodotto da Atari nel 76, e sembra proprio un gioco diciamo in 3D di guida, molto spartano ma c'è addirittura l'animazione, c'è addirittura l'animazione dell'esplosione, eccetera, ma non è niente di più lontano da un videogame, questo era semplicemente, era così, cioè era un tracciato fisico e tutte le proiezioni di queste macchine su questo schermo diventavano il videogame, ma non era un videogame, quindi mentre c'era Pong in sala giochi c'era questo, la gente giocava più a questo, era molto più divertente, tra l'altro è molto interessante vedere com'è l'animazione dell'esplosione, questo è tutto il gioco illuminato sostanzialmente da queste lampadine che creano le ombre delle macchine, quando sbattevi tramite un circuito elettronico, un input elettronico, venivano spente tutte le luci del gioco e si illuminava solo questa di questa immagine stampata dell'esplosione e poi su schermo appariva come si vede qui appariva l'esplosione, ora non so se c'è un attimo in cui va a sbattere di nuovo, lo fa vedere all'inizio comunque, chiaramente l'acceleratore regolava la velocità in cui quel motore meccanico girava e creava quindi queste animazioni. Un altro esempio di questi giochi elettromeccanici, sempre questo del 74, due anni prima, ancora una volta molto più interessante, il Pong, io personalmente preferivo più giocare a questo, questo è del 74, è un gioco disparatorio, farmafiosi, con le macchine fisiche, cioè sembra un gioco in realtà aumentata, però in realtà no, è un gioco in realtà e basta. E sostanzialmente c'è una comunicazione, non lo so, non ho idea di come, non mi sono informato del precisamente come avvenga la comunicazione dello sparo, ma la macchinetta si capisce perfettamente come funziona, legata direttamente al volante su un rullo che va e sembrava di vedere una realtà aumentata di un inseguimento, in realtà erano proprio macchinine vere di plastica. Quindi negli anni 70 c'era questo, in sala giochi, di elettromeccanica e di elettronico c'era il tristissimo Pong. E si inizia, insomma si inizia a portare il televisore partito da quello meccanico, siamo arrivati a un televisore che già alla fine degli anni 50 abbiamo detto che ce n'erano uno ogni due case, alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 70 il televisore lo avevano tutti, ha già cambiato la forma, non sembra più quello specchio girevole del filco predicta, ma è un televisore, vero. E quindi sì, c'è solo Pong, praticamente l'unico gioco che esiste è Pong. Nel 72, nello stesso anno in cui usciva in sala giochi, il Pong cabinato esce in versione casalinga solo nel 75. Nel 72 viene creato questo Magnavox Odyssey, che è Odyssey, in realtà il nome in codice del prototipale era Brown Box, se non sbaglio, che è questo, era un progetto obbistico del creatore di un oggetto da usare, da attaccare al televisore per poter giocare. Il gioco di sotto era sempre Pong, però esistevano delle pellicole per simulare sempre la realtà, delle pellicole, questa è proprio una pellicola che si attacca sul televisore, che simulavano il campo da tennis, ma di sotto comunque erano sempre fasci di elettroni bianchi, cioè i televisori erano ancora in bianco e nero nel 72. Forse qualche televisore a colori c'era, ma non era così comune nelle case. Che cosa crea questa cosa, oltre ad essere un cabinato da sala giochi da poter attaccare in casa? Inventa sostanzialmente l'uso di cartucce, è il primo caso in cui in una console si potessero mettere delle cartucce ed è collegabile a un televisore di casa, cioè chiunque poteva collegarlo al televisore di casa. Qui per un attimo vado molto più avanti negli anni 80 perché mi serve semplicemente questa immagine per dire che chiunque produceva le console che fossero cabinati o fossero videogiochi di qualsiasi tipo era sempre la stessa persona che aveva prodotto il dispositivo su cui andava quel gioco. Activision è stato il primissimo caso in cui uno sviluppatore era third party, cioè uno sviluppatore era una persona esterna allo sviluppo del prodotto, proprio della console, dell'oggetto su cui girava quel videogioco. Quindi solo inizio anni 80 comincia a espandersi il mercato dei videogiochi a produttori di terze parti. Il videogioco ormai da questo punto in poi diventa un dato di fatto, i videogiochi in casa ormai c'erano, ma i cabinati da sala giochi sono sempre stati il modo principale per attrarre le persone al videogioco, non tanto perché se era un gioco casalinco avevi comprato il gioco e basta, ma in realtà qua dovevi continuamente inserire gettoni, ma per dare degli effetti che potessero sbalordire all'epoca e quindi attrarre il compratore doveva essere comunque ancora un oggetto grande, non poteva entrare in casa. Qui ho portato l'immagine di Battlezone del 1980 perché prende ancora quella visione a periscopio che era partita ancora prima dai mutoscopi nell'inizio del 1900 e poi nel Sega Periscope negli anni 60 e mantiene qui, c'è sempre questa cosa che per farti pensare che stai guardando una cosa reale, rimpicciolisco il tuo punto di vista insomma. Inoltre viene ricordato come uno dei primi giochi ad uso comune di grafica vettoriale, ma in realtà ci sono esempi ben precedenti, però sempre limitati ad ambienti accademici e dimostrativi anche di capacità informatica, tra cui Spasim e Maze War del 1974, che sono nel primo caso quello in alto a destra un simulatore di volo e in questo caso un simulatore di spionaggio in cui era il primo Call of Duty questo, Maze War, il primo gioco in cui bisognava simulare una spia in dei corridoi contro altre spie ed era un esempio anche di come poteva funzionare il network delle università perché il 1974 era più o meno tempi di Arpanet quasi, o un po' prima forse. Però comunque si iniziava a sperimentare questo. Io credo che avessero anche dei fini parabellici o paramilitari queste innovazioni perché ancora una volta comunque lo sviluppo delle tecnologie in un modo o nell'altro si lega a contesti bellici. Succede, poi non lo so. Questi erano stati presentati come videogame, però non lo so. E negli anni 80 invece quello lì piccolino fu il primo simulatore, non il primo perché il primo Spasim, però uno dei primissimi simulatori di volo prodotto da Microsoft, ma non era proprio estremamente disponibile al pubblico. Cosa accomuna tutti questi giochi? Che sono fatti in grafica vettoriale. Qual è la particolarità della grafica vettoriale? Funziona proprio come una stampante plotter. Viene descritta una serie di punti e quel famoso raggio di elettroni di prima traccia questi punti. Quindi c'è proprio un controllo diretto sul raggio di elettroni. Come se fosse una pistola d'acqua che spara acqua continuamente. Noi dirigiamo questo oggetto in maniera continua. Solo dopo si viene a sviluppare quella che è la grafica raster. La grafica raster che vuol dire io non vado a tracciare il punto come viene descritto ogni volta, ma creo tutta la schermata. Cioè questo raggio televisivo non fa le forme che deve fare. Fa tutte le celle del televisore, le fa tutte quante. Poi che sono spente o accese, non ci interessa, inizia a crearsi la pagina, il frame di visualizzazione diciamo del monitor televisiva. Questa linea si chiama raster scan. Cioè la scansione continua di dati e non a caso con un oscilloscopio diciamo. Uno dei primissimi esempi, qua entriamo nel vero e proprio 3D. Uno dei primissimi esempi di giochi 3D usando la grafica raster è 3D Monster Maze sul Sinclair, sullo ZX80, sul Sinclair insomma, sì, sullo Spectrum. Ancora qui siamo in un periodo in cui computer e console, ma tuttora, però diciamo in generale computer e console sono un po' più o meno la stessa cosa. Anche il primo Famicom in realtà si chiamava Family Computer, di base sono computer per lo più deputati al gioco. Perché, tra l'altro, per lo più deputati al gioco alcuni? Perché poi, come vedremo più avanti, ci sono delle tecnologie che è necessario mettere solo se devi fare un determinato lavoro. Sei un computer che ti serve per fare dei calcoli matematici, non ti serve che abbia una scheda grafica, non a inizio anni 80. Comunque il gioco era un 3D fintissimo, perché in realtà tramite questi, cioè per lo più i computer all'epoca scrivevano e basta, facevano solo lettere e segni grafici. Caricando queste caselle che erano grande come un carattere, cioè ognuno di questi quadratini è come la C o la S, creavano come se fosse un muro di testo, un'immagine 3D che era appunto descritta da questi blocchetti. L'unica differenza è che non era in 3D, cioè dava l'illusione appunto del 3D, però in realtà si poteva andare solo dritti a questo gioco. Cioè faceva i muri laterali visti così di lato, ma non si poteva andare a sinistra e a destra, andavi solo dritto, sempre solo dritto. Perché in un certo senso non c'era nemmeno la tecnologia per calcolare questa terza dimensione, perché comunque il televisore è comunque un piano bidimensionale, il calcolo i 3D andranno sempre poi trasformati in un piano bidimensionale. Solitamente questa cosa si fa tramite delle sottrazioni o molto più comunemente tramite delle divisioni. Per un processore, forse negli 80 manco le facevano le divisioni i computer, perché comunque solitamente questi erano programmati in assembly, molto spesso in assembly di uno Z80, che io mi ricordo non si possono fare proprio le divisioni. O se le devi fare non puoi fare direttamente l'operazione divisione ma devi creare sotto i rifugi. E invece nell'87 Freescape, che era questo produttore anche di videogame, di engine 3D, scrisse uno dei primissimi engine 3D, sempre per titoli home computer e console, che di questo tempo erano più o meno di pari passo, ma era lentissimo. Questo gioco rappresentava tutto lo spazio in 3D veramente, non era una finzione come questo, che erano solo delle linee messe un po' più storte, sembra 3D. Qua veramente avevi una dimensione dello spazio, potevi roteare intorno a te stesso, ma era lentissimo, perché per calcolare ogni pagina ci metteva 3 secondi. Quindi non è che se giri lo sguardo passano 3 secondi, cioè non funzionava, non piaceva. Più avanti quindi abbiamo parlato di vettorializzazione, cioè tracciare i vettori come dei triangoli, dei poligoni, è disegnare tutta la pagina di visualizzazione, così come senza tracciare direttamente quello che ci sarà, ma riempiendo tutti i blocchi disponibili sul televisore. L'unione di queste due cose, della grafica vettoriale e di quella raster, creano la rasterizzazione, cioè il fatto di trasformare dei vettori tridimensionali, dei triangoli, dei poligoni, in un'immagine bidimensionale. Si arriva a uno degli esempi, uno dei primissimi esempi è iRobot, che è un cabinato del 1984, quindi ancora cabinato, cioè il massimo della tecnologia era ancora su arcade, quindi una macchina creata apposta per fare quella cosa. E finalmente la grafica 3D inizia a piacere più di quella 2D soltanto nel 93, quando Yu Suzuki, che è una persona di cui parleremo tantissimo, Yu Suzuki crea il cabinato di Virtua Fighter, che sostanzialmente porta la tecnologia di iRobot a livelli estremi, perché comunque il videogioco per essere divertente deve essere fluido. Non è che a questi tempi, anni 80, anni 90, non generano dei motori di render 3D, cioè se dovevi fare una foto di una casa, un render in 3D dimensione, lo potevi fare, ma era un'immagine statica, perché magari renderizzare quell'immagine in 3D prendeva un minuto e la facevi veramente in 3D, i calcoli sono trigonometrici alla fine, puoi creare anche un'immagine di base tridimensionale su un foglio tramite calcoli trigonometrici, ma è fare continuamente calcoli per ragionare ogni frame che è complesso. Tant'è che Virtua Fighter in realtà sembra tridimensionale, perché i personaggi sono tridimensionali, ma in realtà si possono muovere solo sul piano orizzontale. Quindi a inizio anni 90 i giochi iniziano a diventare in 3D poligonale e siamo partiti sostanzialmente da le vecchie sale giochi, giochi fatti in plastica, però a questo punto siamo già arrivati al poter simulare delle forme tridimensionali su schermo. Quindi a questo punto io poi sono arrivato a parlare poi di tecniche codificate, nel senso come si chiamano precisamente alcune di queste tecniche e come vengono usate. Qua siamo arrivati che con cui i giochi non dico che sono come adesso, ma ci siamo arrivati, però tornando indietro cercherò di spiegarvi ogni singolo processo in cui l'immagine passa dall'essere un'immagine televisiva semplice a un gioco 3D vero e proprio. Qui ho scritto horizontal blank scrolling. L'horizontal blank cos'è? È il momento in cui il fascio di elettroni riposa dopo aver disegnato, riposa e torna a cavo, dopo aver disegnato la raster scan. Cioè l'immagine del televisore viene disegnata una linea alla volta. Questa cosa avviene velocissimamente, non ce ne accorgiamo nemmeno, però ci sono pure dei ragazzi YouTube che hanno fatto il video con una ghost cam, cioè una telecamera che raggiunge una velocità di riproduzione molto molto bassa. Ogni linea viene composta una per volta e il fascio di elettroni torna indietro. E quindi queste linee vengono appunto si create dal televisore. Quella è stata una delle primissime tecniche per dare un'illusione di 3D. Innanzitutto appunto nel 76 si iniziò a inserire i televisori nei cabinati, quel gioco di macchine che abbiamo visto prima meccanico era del 74. Nel 76 si inizia a mettere i televisori nei cabinati, però sempre con hardware legato specificatamente a quel gioco, ma non esistevano assolutamente schede grafiche, non esisteva niente di tutto ciò. L'unico modo che potevi fare per creare degli effetti era andare ad agire proprio sulle proprietà stesse del televisore. Quindi abbiamo detto che sostanzialmente questo fascio di elettroni torna ogni volta a capo e quindi crea delle linee. Così come il primissimo, antichissimo televisore sono delle fascette, anche nel caso del televisore tradizionale canonico sono una serie di linee prodotte da questo fascio di elettroni. Tramite un distorsore elettronico questo fascio di elettroni poteva essere spostato direttamente mentre era visualizzabile e quindi creare la curvatura della strada. Però l'immagine sostanzialmente era sempre l'immagine di una strada dritta e statica, era solo la distorsione d'immagine che creava queste finte curve. E questo è uno dei primissimi esempi, perché poi questa tecnologia ha fatto praticamente sempre più avanzata, fatto da padrone negli anni 80 e 90 con giochi tipo Paul Position, Turbo, che non ho portato come immagine. Ed era prodotto da Sega comunque. Quindi come abbiamo detto prima, già dai cabinati quelli meccanici, Sega si era imposta come, non illuminare, ma come capo dell'arcade game. Erano i giochi più interessanti solitamente quelli di Sega. E ancora una volta nel 76, questo è un gioco che ebbe parecchio successo. Nell'85, torniamo, si continua a sviluppare su questa falsa riga, però Sega proprio perché andava bene in queste, come si dice, andava bene nel mercato arcade, investì sempre più soldi in questo genere di sperimentazione e in oggetti sempre più particolari e immersivi, tra cui Hang On. Hang On era un gioco di moto basato praticamente su fonts, non era molto diverso, aveva una grafica più avanzata perché comunque erano passati dieci anni, ma gli effetti erano ancora più o meno simili, solo un po' più ritarati, però l'immersione era data oltre che dal televisore, era data dal fatto che il televisore era sempre, era proprio attaccato alla moto, quando giravamo con la moto il televisore ci seguiva, lì dentro praticamente, e non solo, l'altezza da terra poteva avere due modalità che doveva scegliere il gestore della sala giochi, una un po' più di pratica con delle pedane che si potevano mettere e poi si potevano rimuovere le pedane e la moto aveva un'altezza da terra realistica e quindi il realismo era dato non solo dal fatto che appunto era un 3D molto impressionante per l'epoca nel televisore, ma anche il fatto che toccavi a terra allo stesso modo che come toccheresti su una moto normale. L'orizzonte al blank scrolling, cioè il fatto di distorcere l'immagine, è uno proprio dei primissimi esempi di come creare effetti tridimensionali sul televisore. Questa cosa si è andata poi evolvendo sempre di più perché i giochi di Yu Suzuki piacevano da morire al punto che Sega decise di creare la M2 che sarebbe la Sega Amusement Research, cioè un gruppo di ricerca che riceveva un sacco di soldi da Sega per sviluppare giochi destinati all'arcade e che praticamente mirassero al monopolio degli arcade. Tant'è che iniziò a prodursi anche, lo faceva già prima, ma l'hardware Sega era sempre quello più potente e performante anche per quanto riguarda la visualizzazione di effetti 3D. Qua siamo nell'86, sul computer non c'era questa roba, nell'86 sul computer difficilmente c'era questa roba o comunque non girava così forte e iniziarono a usare il Parallax Scrolling che è una versione di quella di distorsione televisiva di prima però fatta usando una scheda video in tutti gli effetti. Era un chipset video all'epoca perché le board arcade sono tutto il gioco su una board, un unico pezzo, cioè tutto il gioco arcade è un computer, non è che una console, un cd. Ogni gioco arcade era un computer a sé. E montavano stesso sulla scheda questi chipset video che avevano appunto delle idee grafiche usando anche chip FPGA, cioè quindi con degli array regolabili e delle logiche di depth buffering, cioè insomma ha fatto scuola il modo di Sega di usare queste cose. E uno dei primi esperimenti 3D proprio portato avanti da Sega che c'era già nel Sega Fonts però era un po' più banale, però poi qui ebbe proprio il suo periodo, era lo sprite scaling, cioè gli sprite, non so se avete presente che sono, comunque sprite viene dalla parola spirito, spiritello, no? Ed è un'immagine grafica sul computer che può apparire sopra all'immagine, cioè viene disegnata da un chip grafico a parte rispetto a quello che disegna tutta la schermata del computer e disegna lo sprite, l'immaginetta movibile perché una pagina di testo non la puoi muovere, quella è basta, invece lo sprite si può muovere indipendentemente perché appunto è processato da un chip indipendente. E lo sprite è quello, per esempio Pacman è uno sprite. Lo sprite scaling cos'è? Il fatto che tramite acceleratori grafici che erano questi, questi chip qua, in realtà è un chipset, sono una decina di questi in uno spazio, gli sprite potessero venire avanti e dietro, cioè c'erano dei chip fatti apposta che calcolavano dove si dovrebbero trovare i pixel se tu ingrandisci o rimpicciolisci l'immagine. Per esempio nel caso dell'albero, l'albero più si avvicina a te e più diventa grande, la motocicletta avversaria più si allontana da te e più diventa piccola, questa tecnica si chiama sprite scaling. E uno dei primissimi a portarla nel campione dei videogiochi fu proprio Sega, nei cabinati ancora, a casa non si poteva fare. O se si faceva non era bello così. E quindi si cominciano a unire queste due cose. Il fatto di creare profondità tagliando le sezioni dello schermo è degli sprite che si rimpicciolivano e si ingrandivano a seconda della distanza che avevano. Magari proprio lo schermo era diviso in due parti, quindi l'asse delle y partiva, per esempio c'è un diagramma cartesiano, l'asse delle y qua parte da zero e viene data sempre una distanza più ampia. Quindi magari abbiamo che la x è, se questo schermo è 100 pixel, la macchina è a 50 pixel di x. Di y era a 100 e quindi 100 y equivaleva al fatto che l'immagine era grande così. 50 y voleva dire che l'immagine era piccola così. Cioè era il punto nello spazio bidimensionale che dava la grandezza di quel singolo oggetto. Insomma, abbiamo iniziato a dire il fatto che comunque la grafica è legata alle potenzialità computazionali di un circuito, di un sistema sul circuito stampato. Da lì a poco, purtroppo per fortuna per loro, Sega era comunque il capostipide del gioco arcade, ma si cominciava nei primi anni 90 a svilupparsi anche tanto l'home gaming. Ormai le due cose erano di pari passo, perché comunque i cabinati erano fatti con un televisore, tutti avevano un televisore a casa, la tecnologia poteva averla anche a casa. Magari anche il rimpicciolimento stesso delle schede arcade erano diventate così piccole da poter entrare in una cartuccia. Quindi si poteva portare a casa quella roba. Il primo passo che fece Nintendo per scavalcare Sega, finalmente dopo tanti anni, nonostante Sega producesse oltre che gli arcade, anche console, si ricorda il Master System come Nemesis del NES, però in realtà ancora prima c'era l'SG1000, che era un'altra console di Sega molto vecchia che mai portava comunque risultati all'arcade. L'unico tratto in cui Nintendo riuscì a scavalcare Sega fu col Super Nintendo, questa console qua. Perché? Perché mentre ancora tutti i giochi erano limitati a questo tipo di grafica, che comunque all'epoca era impressionante, ma non tanto sì per l'immagine che portava, ma per la velocità d'aggiornamento. Cioè erano proprio veloci questi giochi. Non avevano un motore di rending che dovevano aspettare come quelli vecchi che dovevano aspettare che la stanza si caricava. Erano velocissimi. Cioè davano davvero la sensazione di corse. Infatti c'erano giochi di caccia, giochi di moto, giochi di Ferrari. Cioè erano velocissimi. E tutto questo, questi calcoli avvenivano molto velocemente. Però erano sempre limitati su un piano bidimensionale. Sempre usando lo sprite scaling, cioè non creando dei veri e propri mondi 3D, ma usando immagini bidimensionali in una maniera arguta, ci fu Super Nintendo, che sempre tramite un chip, quindi è sempre comunque l'avanzare della tecnologia fisica che porta a un avanzare poi del prodotto che possiamo trarre da questa tecnologia, creò questo chip che a livello sperimentale si chiama Mario, cioè era l'acronimo di matematica Largonaut Rotation Input Output, poi si chiama Super FX, questo chip, che già, se vediamo la differenza qua, va sicuro che saldare uno di questi è un po' più facile che saldare uno di questi. Cioè iniziano ad avere tanti piedini in più, quindi tanti contatti in più, tanti input e output in più, quindi proprio fisicamente i computer si evolvono e permettono risultati più impressionanti. Come funzionava questa Mod 7? Incredibile per l'eco, proprio la scioccante all'inizio anni 90. Ora si tende a pensare che il computer è la macchina più potente su cui fare andare dei giochi, cioè un computer di ultimissima generazione è potente tanto quanto una PlayStation 5, un computer consumer, cioè che puoi comprare, non un computer, un super computer. Comunque negli anni 90 c'era questa tecnologia che cosa era, che è impressionante, che sì, ingrandiva e scalava gli sprite come gli altri giochi, però potevi anche roteare e muovere prospetticamente, quindi praticamente potevi fare tutti questi effetti qua, insomma, perché c'era un chip dedicato solo a fare questa cosa. Questa cosa solitamente dentro un computer non si trovava, o se la volevi dentro il computer dovevi aggiungercela tu. Parlavamo di Amica, l'altro giorno non so se l'Amica avesse una scheda video, in realtà questa è un prototipo di scheda video, ancora in un certo senso, perché è un chip che fa solamente quella funzione, cioè girare lo schermo, girare lo sfondo in un piano tridimensionale. Non è vero 3D, perché comunque lo stai solo inclinando, è un'immagine bidimensionale che stai inclinando, ma dà sicuramente l'illusione del 3D. In tutto questo dicevo, i computer non erano veloci come le console, perché le console erano pensate per giocare e basta. I computer invece dovevano fare una serie di cose, non ci doveva fare la dichiarazione dei redditi, ci doveva appuntare varie cose, insomma, non servivano per giocare i computer. E quindi di base erano più lenti. Il Super Nintendo montava già questo dentro, questo era dentro le cartucce, non era dentro il Nintendo. Cioè c'aveva sì un bus per rispondere, ma il Super FX era dentro le cartucce. I computer non erano così potenti, e quindi che cosa successe? Si sviluppò questa nuova tecnica per poter fare mondi 3D senza avere le capacità che avessero, come ho detto, quei giochi, il chip era dentro. Il Super FX era dentro la cartuccia, quindi tu comprai la cartuccia e andavi a espandere il Super Nintendo. Cioè tu col gioco stavi comprando una piccola scheda grafica da mettere nel Super Nintendo. Il computer no. Magari in questo caso era il floppy. Il floppy non è un circuito stampato, il floppy è un nastro magnetico, in sostanza. Quindi tu ti scaricavi il gioco, non poteva fare un upgrade al tuo computer, perché non aveva un componente fisico come giochi al Super Nintendo. E quindi il computer a casa che c'avevi era quello e basta. O comunque ancora non ti usavano le schede video. Che cosa si inventarono i D software? Per lo più non lo inventarono loro, perché comunque i prodotti e le scoperte nascono sempre da ricerche o brevetti para-accademici o para-scientifici, nel senso che si evolvono molto più lentamente di come possa sembrare a volte alcune tecnologie. Comunque svilupparono questo modo di fare il 3D, ma i computer non potevano fare lo sprite scaling ancora, non riuscivano in certo senso. Cioè ci riuscirono dopo, ma non riuscivano a farlo come le console Sega. Cioè più grande, più piccolo, se il personaggio era lontano vicino, ma non riusciva a piegarsi in diagonale come il Super Nintendo, che all'inizio 90 era il computer più potente che esisteva, se aveva il Super FX. E come fecero? Con il raycasting. Cioè ispirandosi ancora una volta a come funzionano le cose nella realtà. Noi vediamo la realtà perché, ora non so precisamente, però i fotoni rimbalzano da qualche parte, poi rimbalzano nella nostra retina e noi possiamo vedere questa risposta di luce nel nostro cervello, perché il fotono è centrato letteralmente nell'occhio. E allo stesso modo pensarono di fare il 3D così, cioè di decidere dov'era sostanzialmente il giocatore, il suo punto di vista, e tracciare dei raggi che toccavano il punto in cui... Questo è un calcolo bidimensionale, ci siamo che questo è un calcolo bidimensionale, sì. C'è un piano, x e y, non c'è asso e z. Vengono tirati dei raggi bidimensionali che descrivono la distanza che c'è da qui a fine del raggio. Quindi qua magari sono 20 centimetri, qua 5, qua di nuovo 20. E veniva diviso lo schermo in striscette, ancora una volta, come il televisore meccanico, come la cosa del televisore. Veniva... Infatti si vedono un po', non so se... Comunque sono delle strisce. Come si faceva a fare in 3D? Veniva calcolato quanto era lontano, cioè il colore era dichiarato, quello era rosso, era rosso, e quindi c'era da fare una striscetta rossa. La distanza decideva quanto dovesse essere ampia questa striscetta. Quindi se era vicinissima, la striscetta prendeva tutto lo schermo. Se era lontanissima, questa sezione di raggio era piccolo e cambiava anche di conseguenza anche il colore di quella cosa. E dava questa... quest'illusione di 3D, ma in realtà era una serie di striscette, sono delle sbarrette, proprio letteralmente, di varie dimensioni che danno l'illusione del 3D. Ma sono immagini bidimensionali, sono una serie di righe bidimensionali. È un modo molto veloce e semplice, cioè è molto... a livello computazionale è estremamente efficiente questo modo di fare le cose, quindi i giochi giravano in 3D velocissimi. Finalmente, è proprio qui che si iniziò a dire caspita, ma i computer che abbiamo a casa forse... cioè non dobbiamo andare sempre in sala a giochi, forse qualcosa a casa si può fare. Tutti danno... molto spesso si dà per scontato che l'apoteosi del recasting sia Doom, cioè il gioco in cui davvero si vede il primo Doom. Il gioco in cui davvero si vede che il recasting funziona è il primissimo Doom. Però in realtà ci furono molti più esperimenti prima. Tra l'altro il 3D Software è la stessa che ha fatto Commander Cannon, non so se lo conoscete. Comunque, ancora prima di Doom c'era un Overtank 3D che era uno dei primissimi esperimenti dove somiglia ancora tantissimo a questa versione qua, anzi qua crea addirittura dei gradienti questo esempio che ho trovato. Là no, là è tutto il muro che cambia colore. Comunque, iniziano a fare prima Overtank, poi Catacom 3D, poi John Carmack che è il programmatore di software e ha una fiera di videogiochi che potesse essere il PAX dell'epoca o l'E3 che non esiste più usato, vede Ultima Underworld. Tra l'altro Wolfenstein 310 nel 92, inizio 92, Ultima Underworld esce fine 92, però loro hanno visto la demo in fiera. Hanno visto la demo a una fiera. John Carmack vede questa demo di Ultima Underworld che era un RPG quindi non aveva, cioè non era uno sparatutto in prima persona che ha quella velocità frenetica che hanno Wolfenstein e Doom. Era più lento perché comunque era un RPG, era un gioco di ruolo. Però vede quest'uso del recasting texturato, tra l'altro con soffitto e soffitto e pavimento. Tra l'altro è del 92, Wolfenstein ancora non ha soffitto e pavimento, cioè alla fine se togliamo tutto sono un blocco bidimensionale grigio e un blocco bidimensionale grigio chiaro che dà l'illusione del pavimento e del soffitto ma in realtà sono due strisce e basta con davanti questo effetto qua. John Carmack vede questo, come gira questo programma qui e dice che girava troppo lento e che lui era capace di farlo girare più velocemente e quindi da lì fece Wolfenstein togliendo anche queste texture sopra e sotto e poi solo dopo fece Doom e molta gente anch'io stesso pensavo che John Carmack fosse un genio assoluto che se ne è uscito dal nulla con Doom è sicuramente un genio assoluto ma c'è sicuramente un processo molto più lungo d'esplorazione per arrivare all'effetto che diede poi Doom e questo in sostanza è il raycasting cioè il fatto non di disegnare gli sprite uno per uno ma di disegnare delle strisce di schermo e dare l'impressione del 3D io ho scritto pure raytracing perché sostanzialmente il raytracing qui non ho esempi ma il raytracing viene direttamente dal raycasting solo che al posto di tirare delle linee il raytracing va a considerare pixel per pixel capirete che questa funzione è estremamente inefficiente a livello computazionale nonostante abbia un risultato di iperrealismo perché se tu consideri il riflesso di ogni fotone è proprio come la realtà solo che all'epoca si riusciva a creare delle immagini con il raytracing ma per avere un gioco completamente il raytracing ancora adesso ci sono difficoltà perché devi considerare ogni singolo raggio la quantità di luce che ha ogni singolo raggio ogni immagine può equivalere circa a 30.000 300.000 raggi di luce perché ogni pixel a seconda poi della risoluzione ogni pixel va raytracing quindi una risoluzione HD di 1920x1080 fatevi il calco sono mille raggi da considerare per ogni fotogramma insomma non è facile già all'epoca ormai comunque i computer e le console in generale avevano capito anche per questi motivi che più mettevi dei chip potenti delle cose potenti e più i giochi giravano forte quindi già ormai non si parlava più di efficienza ma si parlava di creare tecnologie sempre più potenti per fare girare sempre più divisioni poligonali possibili tant'è che arriviamo all'epoca moderna moderna è il 96 però bene o male non è cambiato niente da allora le tecniche sono sempre le stesse si arriva cioè si arriva da un processore che aveva questo non è un processore questo è un coprocessore è un chip è un integrato che aveva boh 64 piedini a uno che ne aveva 128 a un altro che ce n'ha boh saldare questo è un incubo non lo so manco quanti piedini c'ha 300 forse e si arriva di nuovo qui ancora una volta i computer sono le console diventano sono ancora migliori del computer soprattutto nintendo perché comunque la ricerca sappiamo benissimo che è legata sempre a un fattore economico più hai soldi da spendere in quella cosa e più hai possibilità di scoprire qualcosa di nuovo come abbiamo visto sega all'epoca di yu suzuki e del research amusement aveva soldi da spendere per creare queste cose gli anni 90 per nintendo soprattutto grazie a questo periodo del super nintendo avevano come sperimentare arrivarono a creare questo processore che era il più avanzato che c'era a livello consumer cioè di persone di roba che potessi avere in casa diciamo non computer sperimentali da silicon valley e cose del genere roba che poteva avere in casa svilupparono questo processore che era il reality coprocessor che cosa faceva ormai si era capito che gli schermi sono bidimensionali cioè da questo non ne esce a meno che non torniamo veramente ai cabinati quelli meccanici che offrivano effettivamente uno spazio 3D lo schermo è bidimensionale quindi alla fine l'unico modo per fare aprire qualcosa di tridimensionale è creare una profondità con la grandezza o la piccolezza di varie immagini sovrapposte uno sull'altro che è semplificato in questo schema qui su cioè tante immagini uno sull'altro fanno un'immagine tridimensionale e si arriva al punto che con un'enorme potenza computazionale si riescono a creare immagini in 3D come queste che in realtà sono tutti sono tutte immagini queste qua sono tutte immagini bidimensionali però ogni poligono è uno sprite insomma ed è piegato regolato cioè inclinato in un determinato modo nello stesso modo in cui succedeva con lo sprite scaling solo che sono milioni e milioni di immagini che vanno una sull'altra e perché era un'immagine tridimensionale così come nel gioco delle moto bisognava scegliere cosa era prima avanti e cosa era dietro eccetera questa cosa si chiama HSD cioè Hidden Surface Determination cioè l'abilità di un algoritmo di determinare qual è la faccia nascosta già a livello computazione se ci pensiamo tutte le immagini che sono dietro vengono disegnate cioè non è che non viene renderizzato cosa c'è dietro Mario viene disegnato è anche in realtà è poco efficiente come metodo di disegnare le cose ma non c'è via di fuga piuttosto aggiorniamo il computer piuttosto che scrivere un algoritmo migliore e la serie di algoritmi che si vengono a studiare sono quelli di Hidden Surface Determination cioè come determinare quale faccia è avanti e quale è dietro per l'effetto 3D questa cosa è uno dei più efficienti che si usa ancora adesso è lo Z buffering cioè tu dici come tutti i casi quanto è lontano su un cioè crei un nuovo asse che non hai un asse Z perché non hai una terza dimensione sul televisore ma hai una profondità di immagine cioè come dei fogli uno sull'altro dichiari effettivamente non lo prendi dalle asse Y come lo sprite scaling bidimensionale ma lo dichiari direttamente la profondità di quell'immagine e l'immagine viene costruita in questo modo usando come buffering la profondità dichiarata su un asse Z fra questi vari modi di fare lo Z buffering il più comune è questo che viene chiamato l'algoritmo del pittore cioè come i pittori dipingono un'immagine stratificando strato su strato nel caso del colore olio si parte dal più scuro si arriva al più chiaro questi algoritmi creano l'immagine partendo dal più lontano dichiaratamente più profondo fino ad arrivare a quello più su e disegnano ogni immagine disegnando tutto a ogni frame disegnano tutto e appare su schermo l'immagine definitiva di quel frame secondo questa cosa questo è il modo ben o male che si usa ancora oggi per fare 3D perciò non sono andato diciamo oltre diciamo Nintendo era al massimo livello all'epoca perché era proprio grazie a questo processore di loro invenzione era il più veloce a fare questo algoritmo del pittore nel 96 ed era infatti perfettamente playstation ci provava ad arrivare a questo livello però ancora era ancora un po' più indietro di questa cosa non se ne parla anche perché comunque il Nintendo 64 calcolava 64 bit l'importanza del numero di bit che è disponibile per le operazioni è importante soprattutto se usi dei numeri float cioè con la virgola perché poi a furia di dividere esce sempre un numero con la virgola sempre più grande calcoli sempre più difficile bisogna sempre di capacità processuale migliore il Nintendo 64 di base era più potente la playstation tant'è che la playstation non riusciva tanto bene a farlo qui crash dovrebbe cadere nel buco però in realtà ci sono tanti esempi di questa cosa non riesci a calcolare bene il fatto che se cadi nel buco vanno disegnati davanti questi poligoni allora cadeva davanti a tutti in pratica e questo siamo nel 96 ma la grafica 3D comunque non è tanto diversa da cioè certo ad esempio i computer sono sempre più potenti parlano prima del ray tracing lo riescono a fare più velocemente ma bene o male fare 3D si fa ancora bene o male così sono sempre immagini 3D processate così velocemente che sembra 3D ma non lo sono sono sempre un po' come un film in realtà è sempre un'immagine bidimensionale però che replica il più possibile fedelmente la realtà essendo giunti alla modernità comunque io avrei finito perché poi da qui ai computer moderni cioè in parte un po' non mi interessa in parte un po' il calcolo è questo e quindi di base avrei finito ma ho voluto portare altre due bonus track fra virgolette che non seguono il processo canonico di creare il 3D cioè questo abbiamo visto come processo canonico dall'inizio le lineette che spostavi sulla televisione poi lo sprite scaling poi la possibilità di tenere tantissimi sprite su schermo che in realtà erano poligoni 3D e poi la possibilità di dare un senso di profondità a ognuno di questi sprite e creare immagini incredibili quindi è il percorso lineare della grafica 3D dei percorsi laterali e non così lineari sono per lo più due si sono evinti e molto rari anche nel campo dei videogiochi il primo sono la stereoscopia cioè innanzitutto noi siamo capaci di vedere la realtà perché abbiamo due occhi e quindi sono proprio è la stereoscopia dei nostri occhi la visione binoculare che ci permette di vedere le cose in tre dimensioni quindi si sono iniziati a chiedere alle persone ma scusa come facciamo a fare una cosa realmente tridimensionale se comunque l'immagine di riferimento è una sola e fra i primissimi esperimenti di stereoscopia ci sono il virtual boy del 95 che era praticamente un game boy in un sensore in un visore stile VR tra l'altro siamo partiti dal mutoscopio poi c'è stato il periscope cioè c'è sempre questa cosa di dover guardare in una cosa io non vedo tanta differenza dal mutoscopio a questo cioè si è passata tanta roba però bene o male il funzionamento è quello è virtual boy nel 95 che era praticamente un game boy in un VR e poi nel 2001 c'è il nintendo 3ds che si crea l'effetto di stereoscopia ma senza avere bisogno di di ammenicoli tipo occhiali o cose del genere perché era creato direttamente da due schermi interlacciati questo cioè ogni linea era praticamente una linea che doveva vedere un occhio una no e tra l'altro si vede solo da una particolare prospettiva che è quella frontale da 20 cm cioè già se lo vedi di lato il 3ds non funziona benissimo ora ormai questa è modernità loculus rift è uscito comunque nel 2016 segue questo processo di stereoscopia quindi questa è proprio modernità nuda e cruda un ultimo esempio che ho portato come traccia bonus ripeto traccia bonus perché non è il percorso del 3d solito cioè canonico ma sono esperimenti questo è un altro esperimento di sega non di Yusuzuki questa volta ma dal creatore di Dragon's Eye che è l'olografia purtroppo nel videogame l'olografia per come è pensata stessa infatti è solo un cabinato è molto ingombrante come procedimento e l'unico esempio di olografia di videogiochi olografici distribuiti che abbiamo è questo che è il time traveler che praticamente è Olosim sono due giochi che funzionano sulla stessa piattaforma che praticamente come funzionava c'era uno schermo catodico sotto come questo che rimbalzava su uno specchio e dava questa impressione questa è purtroppo andrebbe visto dal vero ma questa è la foto che più ho cercato di trovare per descrivere questa cosa però aveva dei limiti enormi innanzitutto per creare questo genere di cose lo sfondo deve essere nero perché tutto ciò che è illuminato verrà proiettato quindi per creare questa illusione di profondità ti serve tanto nero e comunque i videogiochi non erano poi così interessanti molto spesso o quasi sempre nei videogiochi anche per quanto riguarda per come la penso io è sempre il gameplay che è più importante della risoluzione grafica effettiva del gioco e in questo caso non ha avuto molto successo questo qui però erano due modi di fare 3D diversi dal modo tradizionale di fare 3D finito come va? io avrei per carità nel percorso che abbiamo visto siamo passati a vedere una miriere di cose ma a livello di prezzi cioè quanto era accessibile economicamente al grande pubblico che cosa? quale periodo particolare? allora diciamo diciamo nel corso del tempo perché le due cose sono sempre andate di pari passo diciamo allora mentre magari c'erano ora non ti saprei dire con precisione però mentre magari in sala giochi c'era un gioco a colori a casa c'avevi un gioco in bianco e nero prima solo sale giochi abbiamo visto proprio perché la tecnologia pure quel cabinato che abbiamo visto con la macchina in 3D erano cose enormi proprio oltre che non c'entravano in casa erano proprio tanto materiale e poi man mano le tecnologie si sono avvicinate ma all'inizio magari mentre in sala giochi appunto c'era il gioco a colori a casa c'era quello in bianco e nero la persona andava sempre comunque in sala giochi e poi comunque un Super Nintendo una cosa del genere poi queste cose iniziano a costare comunque quanto una la Playstation 5 cioè era la tecnologia dell'epoca questa che comunque le console sotto sotto sono dei non dei super computer ma sono dei computer estremamente performanti dedicati solo al gioco comunque fra virgolette è un lusso la console da gioco in un certo senso e lo è sempre stato prima meno poi di più in realtà in questi periodi anche abbiamo visto con stesso la Playstation 5 il chip shortage tutta questa serie di cose iniziano a mancare proprio i materiali per produrre questa tecnologia quindi la domanda precisamente qual era quando no no hai risposto nel senso che comunque non era semplice e accessibile veramente a tutti un po' diversamente da oggi perché diciamo che la prima console proprio consumer che possiamo considerare come una console che teniamo a casa è stata l'Atari 2006 l'Atari 2600 comincia a sdoganare questa cosa del dover andare in sala gioca e di avere un'effettiva esperienza videoludica videoludica simile a quella della sala gioca a casa secondo me è stata proprio Atari a portare questo genere questo per quanto riguarda le console invece per quanto riguarda proprio i giochi più che altro per introdurre anche l'argomento come hai inciso magari una pirateria nel corso degli anni per rendere più accessibile o meno una certa risorsa a livello economico se hai inciso i giochi allora i giochi per girare bene appunto avevano bisogno proprio dell'hardware quindi io credo che sia sottigliata la differenza fra arcade e home console appunto all'inizio anni 90 quando il rimpicciolimento della componentistica era diventata tale da essere appunto la potevi tenere a casa la pirateria guarda la pirateria in questo discorso è un discorso piuttosto moderno perché andare anche ora non so se è presente il MAME cos'è il MAME è la lista dei giochi arcade tipo MAME vuol dire tipo multi arcade machine che cos'è non girano tutti sullo stesso hardware un emulatore SNES i giochi sono fatti tutti per la stessa architettura informatico per lo stesso computer tu metti la cartuccia e funziona gli arcade erano come ti ho detto tutti i computer ognuno a sé quindi emularli è ogni volta come avere una virtual machine emulare un computer perché ogni gioco era un computer quindi ancora oggi la pirateria di macchine arcade non è così semplice e anche trasformare il contenuto di una cartuccia in un file emulabile non è non era un gioco proprio semplicissimo diciamo che secondo me forse è per assurdo ma potrei dire una stupidaggine però il picco della pirateria è stata dall'inverso invenzione del cd poi comunque epoca cd certo c'era anche la pirateria stile nastro magnetico quindi Atari Commodore tutte quelle Atari no Commodore usava le cassette Vic 20 questi qua Spectrum forse c'era un qualche tipo di pirateria perché il supporto Vergine era comunque disponibile al pubblico credo che la pirateria sia legata anche a questa quanto il supporto che quell'oggetto usa sia disponibile Vergine al pubblico quindi la musica a setta o il cd è di un po' 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 Grazie a tutti